ora stiamo facendo il nuovo cocktail albicocca ecco il nostro barman Renato che sta versando la vecchia romagna negli appositi bicchieri e io verserò l'albicocca negli altri bicchieri aspetta se no mi taglio la mano ecco ora ora io perso l'albicocca negli appositi bicchieri che mi dà il barman Renato ecco un po' l'albicocca in questo un altro poi in questo poi ne metterò l'albicocca e chissà metterò un po' in questo un po' l'albicocca un po' l'albicocca perché la dividiamo